Buongiorno a tutti da Marygold, oggi vi volevo dire che c'è un clone nel canale di Mauri che sparge zizzania, che fa finta di essere me, si chiama Marygold71, fa lo stesso nome mio e quindi mi raccomando bannatelo, bannatelo, bannatelo perché bisogna ritrovare pace e serenità Bene, questo è un video breve, poi vi volevo dire che la prossima volta farò un video che parlerà sul sesso, sull'amore, su queste cose come vedete oggi faccio il video sul letto per cambiare, non sarà un video pieno di volgarità cercherò di essere rispettosa, di fare un video serio, non voglio essere né una psicologa né una sessuologa saranno opinioni mia come al solito, quindi non voglio pretendere niente voi me l'avete chiesto, quindi su grande richiesta farò questo video di questo argomento qui amore e sesso, poi risponderò a delle vostre domande che mi avete fatto avete fatto finta di essere una signora che aveva dei problemi, insomma così quindi vi risponderò niente così, non so se lo farò sul letto qui c'è con me anche il caramelo forse è meglio che il babbuino insomma va bene e niente, quindi cercherò di farlo il prima possibile adesso guardo un po' le domande che mi avete fatto butterò giù un po' un video, ok? prima una bozza sul mio quaderno e poi farò il video benissimo, adesso vi saluto, ciao 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 poi vi farò vedere anche un room tour quello che abbiamo lasciato a metà vi devo farvi vedere come si puliscono insomma come pulisco io lo specchio, questo qui anzi gli specchi che ne ho due e quello dell'armadio e quello del comao e poi devo finire di far vedere come pulisco i pavimenti e tutto quanto e poi vi voglio far vedere anche dei quaderni cosa ho scritto vari ho un sacco di quaderni che durante gli anni ho scritto insomma faremo diversi video mi raccomando chiedetemi comunque quale argomento volete farò tutto ma non il dissing non vi preoccupate basta dissing quindi bannate cloni mi raccomando bannate tutti quelli che vogliono continuare la saga e vogliono far esaurire le persone quindi mi raccomando e niente solo argomenti carini simpatici e pacifici va bene? guardate un po' come sto sto così va bene vi saluto ciao ciao ciao